Montagne. Montagne imponenti. Cose che mutano in un lungo tempo. Cielo. Cielo azzurro. Una cosa visibile agli occhi. Una cosa invisibile agli occhi. Sole. Una cosa unica. Acqua. Una sensazione piacevole. Il comandante Icari. Fiori. Molte cose uguali. Molte cose inutili. Cielo. Rosso. Cielo rosso. Il colore rosso. Odio il colore rosso. Acqua che scorre. Sangue. L'odore del sangue. Una donna che non versa sangue. Un essere umano creato dalla terra rossa. Un essere umano creato da un uomo e da una donna. Città. Una cosa creata dall'uomo. Eva. Una cosa creata dall'uomo. Cos'è l'uomo? Una cosa creata da Dio. L'uomo è una cosa creata dall'uomo. Le cose che io possiedo sono una vita. Uno spirito. La cosa che racchiude lo spirito. L'entry plug, ovvero il trono dell'anima. Chi è questa? Questa sono io. Chi sono io? Cosa sono io? Cosa sono io? Cosa sono io? Cosa sono io? Io sono me stessa. Questo corpo costituisce il mio essere. La forma che definisce il mio essere. Il mio io visibile. Che però non percepisco come il mio mio io? Strana impressione. Sento come il mio corpo di sciogliersi. Non riesco a distinguere me stessa. La mia forma va dissolvendosi. Averto presenza esterna al mio io. C'è qualcuno là fuori? Al di là della soglia? Ikari? Conosco queste persone? Il maggiore Katsuragi? La dottoressa Akagi? Altre ragazzi? Compagni di classe? Il pilota dello 02? Il comandante Ikari? Chi sei tu? Chi sei tu? Chi sei tu? Amici di The Man Under The Hood, benvenuti e bentrovati. Nuovo appuntamento con Ci sono un cascato di nuovo, quel format originale targato di The Man Under The Hood che va ad intervistare quelle che sono le eccellenze all'interno degli vari ambiti della cultura pop, andando ad intervallare momenti gioco, performance, letture, ad altri momenti invece più aneddote, ricordi, emozionali. L'unico prerequisito però è aver partecipato precedentemente ad un nostro Live Talks. Prima di cominciare con questa bellissima puntata, fatemi ricordare quello che ormai per voi è l'obvio, ma per noi è importantissimo che voi faceste. Quindi mettete mi piace su tutti i social, attivate le campanelle dove ci sono, salvate, condividete, commentate, fateci capire quanto apprezzate quello che stiamo facendo, così come state facendo con le precedenti puntate. Quindi perfetto. Iniziamo da YouTube e Spotify, dove potrete vedere le puntate complete. Passiamo poi a Instagram e TikTok, con momenti clip ed estratti, brevi però intensi tre volte al giorno, quindi bombardamento mediatico e finiamo con Telegram, dove potrete vedere momenti backstage riservati a questo specifico canale ufficiale. Stasera con me c'è Spanchi, ciao Spanchi. Ah, hai finito? Sì, hai problemi? Ciao a tutti. Io lo so che tu dici che queste cose non sono importanti, ma in realtà sono importantissime. Sono molto importanti, ma sono sicura che sei così intelligente da riuscire a estrapolare una formula che duri solo sette secondi per dire tutto ciò. No, no, non basta. Ma forse dovrebbe essere sempre la stessa, tipo intro? Esatto, è sempre questa, infatti, io mi ricordo sempre le stesse parole. È sempre la stessa, sicuro? Sì, cambio qualche virgola, qualche parola, però... Vabbè, secondo me vai registrato, fai prima. No, 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 non si può, non si può, devono capire che io sto andando sul momento e che queste cose avvengono, è perché ci tengo che loro sappiano quanto è importante quello che fanno, perché è veramente importantissimo, ci danno tanto amore. Come avete capito, però, oggi con noi c'è un'ospite straordinaria, attrice, doppiatrice, fantastica, voce veramente di tanti prodotti iconici, e diamo il nostro benvenuto a Valentina Mari! Ciao Valentina! Ciao Gianni Vergogno! Benvenuta! Benvenuta, che bella averti qui con noi! Molto bello! E ci sentiamo anche molto importanti, perché tu non è che, insomma, non ti vediamo spesso in giro, perché mi vergogno. Ma no, ma invece stasera noi cercheremo... Io ho scelto di fare il doppiaggio proprio per questo, così sto dietro le quinte. Per essere una voce nell'ombra? No, per non essere un volto. Per non essere un volto. Invece questa sera sarà un volto con noi e questa cosa ci lusinga tantissimo e ci onora, quindi grazie per averci scelto. Grazie a voi, assolutamente. Grazie mille. Ci hai fatto subito emozionare, tra l'altro, con una lettura bellissima di Evangelion, dove sei stata la prima voce, direi, quella a cui tutti noi siamo molto legati, in un monologo poi fantastico, perché di quella serie effettivamente io ci ho capito ben poco, però è stato un prodotto che ancora oggi... È andato molto, sì. Tu, quando ti sei approcciata a quella lavorazione, ti rendevi conto? No, perché non mi piaceva. Non ti piaceva? No, posso dirlo adesso? Certo, sì, certo. Possiamo dirlo. No, non mi piaceva. Non mi piaceva. Innanzitutto non... beh, adesso è anche diverso. Credo che siano passati forse venticinque anni, venti almeno. Sì, sì. Ok. L'hai fatto a due anni e mezzo, allora. Magari. Diciamo che non mi piaceva doppiare i cartoni, perché non trovavo quell'espressione e quella verità che trovavo nel volto umano, negli occhi degli attori, quelli che noi definiamo straordinari premi Oscar. Sicuramente oggi è cambiato molto, proprio nella grafica, no? Del cartone, quindi non sono più i cartoni di 20-30 anni fa. E poi non mi piaceva il personaggio, perché questo personaggio è senza anima. E quindi la mia difficoltà, paradossalmente, era rimanere sempre piatta, rimanere, non dare colori. Questa era l'indicazione che mi davano. Ok. Di cercare di essere il più piatta possibile, senza anima, senza colori, non interpretare, quindi non recitare, che invece è la cosa che piace a me. Credo che piacciono a tutti. Le sfumature che cogli nell'umano, qui addirittura ti hanno proprio tolto... Assolutamente. A me piace proprio recitare, sperimentare. E quindi il fatto di togliere tutto, che anche quello è un esperimento. Però alla lunga è noioso, tra virgolette, per chi poi deve caratterizzare il personaggio in questo modo. Essere sempre uguale. E non ti rendi poi bene conto quello che stai facendo. Cioè, poi magari nel prodotto, nell'insieme, funziona perfettamente. Però è strapolato, ti sembra di non fare il tuo dovere forse come vorresti. Invece poi è proprio quello, era proprio quello. Certo, perché è un personaggio molto fuori dagli schemi nella sua mancanza di emozioni. Sì, però mi ricordo che appena me l'hanno descritto mi ha preso un colpo. E appena i primi anelli mi dicono togli tutto, togli tutto, piatta. E come faccio? Come faccio? Quindi sì, non è stata una lavorazione in cui mi sono, diciamo, divertita. Ok, però è stata abbastanza challenging, no? Per un'attrice anche riuscire a togliere tutto. Sì, sì, però a me piace lavorare in un altro modo, ma poi quelle sono cose anche molto soggettive, personali. Quindi poi sì, difficile, però difficile non vuol dire divertente. A volte ci piacciono le cose, cioè a volte poi quando lavori più è difficile, più fatichi e meno ti diverti. Ah, ok. No, 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 è chiaro. Cioè paradossalmente quando ti diverti, anche se fatichi, passa un po' in sordina la fatica. Cioè stai faticando, stai cercando delle cose, ci metti anche del tempo, però comunque sì, è una sfida divertente. Dalla quale esci soddisfatto? Qui meno? Ma sì, anche perché appunto, come ti dico, io non mi rendevo bene conto di quello che poteva venire fuori. Cioè veniva fuori una roba tutta uguale, tutta piatta, diciamo, ma la gente si addormenterà, quindi sarà una buona notte. Invece no, perché poi… È stato super apprezzato anche il personaggio, che però abbiamo avuto anche l'aria latini poco fa come ospite, che lei era Asuka. È completamente diverso come personaggio, quindi uno esplosivo, pieno di vita, e l'altro invece il tuo… Sei divertita l'aria che ha detto? Lei sì, dai, perché insomma il personaggio era bello… bello pimpante, no? Eh, ma anche questo contrasto fra personaggi è quello che poi ha reso questo… Sì, però devo dire che io sono stata invitata a tantissimi festival, proprio per essere la voce di Rei Ayanami di Evangelion. Sì, ho avuto tantissime, come si suol dire, ospitate. Sì, ospitate. E proprio per questo personaggio. Poi ho fatto delle cose magari che io ritenevo straordinarie, ma che non si è filato nessuno. Oh no! Invece Rei… Eh sì, perché comunque è stato… È il suo fandom. Credo che sia stata una… diciamo una… a quell'epoca… in quell'epoca fosse proprio un qualcosa di… di rivoluzionario questo genere. Sì, no, effettivamente io mi ricordo quando lo vidi che è difficile da seguire. Sì. Perché poi soprattutto nel finale… all'inizio lo riesci bene o male a inquadrare, ma poi nel finale iniziano… io lo chiamo delirio impropriamente, i fan mi ammazzeranno. Però effettivamente iniziano a esserci riferimenti alla cabala, cose… Sì, difficili, anche se che devi conoscere. Ho capito che sono molto complesse, quindi io sinceramente alla fine non ci ho capito niente. Viva la sincerità. Però il prodotto bene o male ti tiene incollato allo schermo, anche se di difficile comprensione. Io non ti dico, io non amo il genere, però tanta gente mi ha scritto, mi ha parlato ed era entusiasta di questa serie. Quindi… Diciamo che i fan ti hanno restituito quelle emozioni che il personaggio ti aveva tolto. Bravissima. Bene, bene, ci stiamo. Allora a questo punto andrei a parlare un attimo di un personaggio che invece è l'esatto opposto. Chi è? Che Amelie. Ah sì. Perché invece Amelie è piena di vita, è una ragazza… Anche lei è un po' particolare. Sui generis, però comunque l'opposto. Sì, sì. Che… la conoscevi dritta tu? No, perché era il primo film, credo anche proprio forse, Divo Trittatullo, sai che non mi ricordo neanche se ho fatto il provino oppure se sono stata chiamata direttamente su parte, non mi ricordo. Comunque sono passata un sacco di anni. Sì. Ero proprio una bambina. Mi ricordo che andavo a questi turni con Francesco Vairano, questo direttore così importante, così famoso, già come questo maestro, no? Con un'ansia che se ci ripenso quasi mi commuovo, un po' mi emoziono, perché poi sono cose che in realtà andando avanti abbiamo un po' perso. Siamo più spavaldi, siamo più sicuri. Io mi ricordo che ero proprio insicura, ero poco consapevoli di me stessa e di quello che potevo fare, mi chiedevo, ma proprio io è una cosa così difficile? Cioè, come è possibile che abbiano pensato a me? E mi ricordo che ogni turno c'avevo l'ansia e anche poi con altri film, che mi è capitato, che quando aprivo l'anello se vedevo che c'era solo magari un sì, dicevo, ah, per fortuna. Cioè, ho detto solo sì. Almeno, e se vedevo che c'era 4-5 rete, come faccio? Ma ci sarò tutto il giorno. Eh sì, perché lei parlava velocissima e poi c'erano un sacco di termini francesi, no? E quello non era un problema, perché io sono abbastanza poliglotta, perché ho frequentato le scuole straniere. Per cui diciamo che le lingue non sono… parlo tedesco madrelingua, francese molto molto bene, l'inglese lo parlo, ma francese e tedesco sono… Ah, quindi era proprio… stavi nel tuo. Sì, sì. Ma stavo nel mio sul… sai, sul dialogo, ma sull'altro no, eh. Però stavo sul pezzo, dai. Stavi sul pezzo. Ci ho provato. No, 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 è venuto bellissimo. Secondo me quel prodotto è un bellissimo mix di bellezza proprio del film originale e ottimo lavoro di doppiaggio. Ma sai, tra l'altro, cioè, è stato difficile, però poi se ci penso, in realtà avevo quella … ero veramente naifa anch'io a quell'epoca e per cui si sentiva, credo, il fatto che fossi anch'io così spensierata, così… Quella leggera. Quella leggera. Genova, leggera. Era proprio la mia età, era proprio il mio modo di essere, per cui… Ti avevano distribuita super bene, quindi. Credo di sì. Speriamo, insomma. Assolutamente sì. Ma sicuramente l'avrebbero fatta anche tante altre benissimo, forse anche meglio di me. Però, insomma, l'abbiamo portata a casa. Assolutamente. In maniera ottimale. Assolutamente sì. Noi gli abbiamo preparato un'altra letturina qua su Amelie, perché… Oggi mi fate lavorare. Un pezzo anche tosto, perché non so se ti ricordi la scena dove lei… No, non mi ricordo niente. Nacci del contesto. C'è una scena, c'è una scena bellissima dove lei aiuta questo signore ad attraversare la strada. Ah sì, che era cieco, no? Che era cieco. Quindi lei lo prende, no? Lo porta, diciamo, sotto braccio e mentre lo fa attraversare, lo accompagna, gli racconta quello che accade intorno a sé. Venga, l'aiuto io. Scendiamo e… Via! Si parte! Incrociamo la vedova del tamburo della banda. Da quando lui è morto, porta la giubba di suo marito. Attento! Opla! Toh! L'insegna della macelleria equina ha perso un orecchio. Il signore che ride è il marito della fioraia. Ha delle rughette maliziose intorno agli occhi. Uh! Dal pasticciere ci sono le calecca Pierogourmont. Sente che profumo! È Peppone che fa gustare i suoi meloni ai clienti. Toh! C'è Marion che fa il gelato alle mandorle. Ora passiamo davanti alla salumeria. 79, il prosciutto con l'osso. 45, il guanciale salato. Ora il negozio dei formaggi. 12,90, il picadon de l'Ardèche. 23,50, il cubacu de Poitou. Dal macellaio c'è un bambino che guarda un cane che guarda i polli arrosto. Ecco, siamo davanti al chiosco dei giornali davanti alla fermata della metropolitana. Io la lascio qui. Arrivederci! Che spettacolo! È stato bellissimo! Bravissimo! Lo dite a tutti, non ci provate. No, sì! A parte che invitiamo eccellenze. Ma questa è stata veramente velocissima. Perché mi pare che lei fosse così veloce. Sì, 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 lei era così. È stato veramente emozionante. È stato un bellissimo salto nel tempo. Lo dite a tutti. Allora, bravi lo diciamo a tutti. Lo diciamo a tutti, ma perché qui da noi sono il top come te Valentina. Bravissimo, mi sono d'accordo. Se qui significa che sei un'eccellenza. Quindi come facciamo a non dire bravi a tutti? Vabbè, però questa era veramente anche difficile per la velocità. Adesso questo non lo diciamo a tutti. Cioè, questa velocità porta con sede le difficoltà. All'altra vista, ormai ti avevo detto che il francese era roba mia. Però poi quando li vedevo al volo dico cacchio. No, invece fighissimi. Grazie. Spanchi prego, se no dice che mi monopolizzo gli altri. Grazie, io vorrei parlare di una serie che tra l'altro di cui abbiamo avuto un altro... Vabbè, andate velocissimi. Sì, sì, ti vogliamo liberare comunque per una... Se ci avessi un po' di demenza senile, starvi dietro è tosta. Sì, sembra una lezione a scuola che, capito, il professore spiega, ti puoi fermare un attimo. Vai. Io voglio parlare di Ossì. Ah! Pensavo di Settimo Cielo, pensa un po'. Ah, fantastico Settimo Cielo. Lucy, prima voce. Anche quello parte della mia infanzia, ero legatissima, ha avuto una storia un po' travagliata al cast, poi. Eh, manco io questa. Sì, lui, il padre, quello che interpretava il padre era un... non lo posso dire. Ah, sì? È stato coinvolto in... Ah, in cose strane? Molto strane. Ah, questa non la sapevo. Eh, sì. Vabbè, ma torniamo a... Pensa che... no, invece mi piace dire una cosa di questa serie. Sì. Che una delle ultime, a parte Ossì, che invece anche quella abbiamo... Poi su Ossì c'ho anche degli aneddoti, eh. Però mi piace il fatto... ho dei ricordi particolarissimi di Seven Heaven, perché è una serie che facevo in CVD, tra l'altro con Claudio Capone, che mi piace ricordare, con Melina Martello, poi i miei fratelli mi pare fossero Gemma, credo Daniele Raffeli, forse, Ilaria Stagni e Massimiliano Manfredi, ma noi eravamo sempre tutti insieme a Leggio ed era pazzesco, era pazzesco perché eravamo veramente in 4, 5, 6 a Leggio e ci sentivamo davvero una famiglia. Tante stagioni poi. Sì, e pensa che io il giorno prima della maturità, me lo ricordo, ero al turno a a doppiere Seven Heaven e tutti i miei colleghi, io ero stressatissima perché il giorno dopo avevo l'esame di maturità e non potevo studiare, e tutti i miei amici invece si erano messi insieme perché c'erano gli orali e quindi stavano ripassando. Un gruppo di studio. Sì, e io mi sentivo terribilmente in colpa di non ripassare, di lavorare, di fare questo esame di maturità, fare scena muta e mi ricordo ancora che i miei colleghi Massimiliano, chi mi massaggiava da una parte, chi mi scioglieva il collo, avevo dolori dappertutto, avevo 19 anni ma ero già spiegata da un fascio di nervi, piena di dolori, comunque un ricordo bellissimo di quella serie perché eravamo proprio una piccola famiglia anche noi e ci sentivamo proprio famiglia. E siete rimasti amici dopo la fine della… Ah ma sì, ma poi tra l'altro io in CVD lavoro ancora, adoro, adoro Melina Martello, Claudio Capone purtroppo non c'è più ma mi piace ricordarlo con estremo affetto e anche sul lavoro come collega con noi bambini era estremamente paterno, per questo mi piace ricordare questa serie perché Melina e Claudio erano estremamente genitori anche sul lavoro, cioè con noi, quindi sentivo questo clima di essere al lavoro ma comunque è cuccolata in qualche modo, protetta. E poi l'esame com'è andata? L'esame ho preso 47, 48… vabbè l'ho fatto. 48 su 60, stiamo parlando 30 e 5… partito con i calcoli… 49… stiamo parlando tra 7 e 8… Vabbè comunque l'ho fatto, è andato bene, dai… Bene, tornando a Ossi… è una serie a cui io sono molto affezionata, tra l'altro abbiamo avuto Emiliano che faceva Ryan e ci hanno massacrati sotto i commenti perché non ne abbiamo parlato di Ossi… Non avete parlato di Ossi… Adesso ne parliamo con la controparte femminile… A te guarda non ti avrei mai pensato… Di Ossi? No… Sì, dai, per forza… No, come così, adesso a guardarti… Sì, sì… Perché è una delle prime serie, credo, in cui già… cioè in cui proprio si sfoggiava questo lusso adolescenziale che… non mi ricordo io di aver… cioè io non mi ricordo me stessa che guardavo delle serie in cui degli adolescenti sfoggiassero quel lusso, l'attenzione a quel tipo di vita e quindi noi eravamo estasiati che si poteva fare quella vita all'età nostra e ci siamo divertiti un sacco, io tra l'altro ero sempre a Leggio con Emiliano che adoro, noi siamo anche amici, ci vogliamo proprio bene e litighiamo anche un sacco, tra virgolette, nel senso che ci battibecchiamo ma a modo nostro quindi ci battibeccavamo continuamente, sbagliavamo uno dopo l'altro, era una cosa… cioè o io o lui era una scivolata continua e poi uno rideva l'altro pure, alla fine ci davamo sempre tutte le scene un sacco di volte, non era mai buona tra nella prima, nella seconda, nella terza, era un incubo perché poi ci prendeva a ridere, poi eravamo distratti e mi ricordo, infatti questo lo voglio dire, non so se avete invitato Alessio Cigliano… Se lo inviterete, fategliela pagare perché praticamente lui correggeva i copioni, lui era molto meticoloso e quindi lui riadattava praticamente tutti i copioni e quindi che faceva? Quando a un certo punto le correzioni erano infinite e quindi perdevamo un sacco di tempo, le nostre pause tra un turno e l'altro magari tu avevi secondo e terzo… Sì… Quindi lui diceva, abbiamo finito sulle 4.20, adesso prendo il caffè, fumo la sigaretta, vado fuori, prendo aria… invece noi lo passavamo seduti, mi ricordo questo stabilimento che era l'N.C. si chiamava, ai Parioli in questa vietta, seduti sui gradini perché lui ci dava già le correzioni per tutti gli anelli del turno dopo, quindi cioè lui ci prendeva i copioni, ci dava il copione e tu stavi col caffè e dicevi che devo fare? Ma scrivi, allora, anello 1, la prima battuta cambia, la seconda… e noi tipo 20 minuti a riscrivere il copione per me era un incubo… E ci credo… Era un incubo… Finché a un certo punto, dopo qualche mese, ha capito che… Abbia detto Alessio, basta canna… però se lo facevamo in sala perdevamo tantissimo tempo… che ha cominciato a ristamparli lui, cioè li ricorreggeva ristampandoli e quindi ci arrivavano già… Arrivavano già pronti… Corretti in sala… ma ti dico queste pause che tu… cioè finalmente c'eri a 10 minuti solo per me, la telefonata, le cose… e invece io mi ricordo questa scena, io Emiliano e Patrizio Cigliano, c'era anche la Magliano, capito, con sta penna… e lui come un professore davanti a noi scogliava e rilegeva tutto il copione… correggete… allora Valentina, prima battuta… mamma mia… Mamma mia… Super meticoloso… Sì sì, lui è molto meticoloso… Stava un po' come ritornare a scuola quello… Sì, un incubo… Un incubo… Un incubo… poi dopo tornavi… c'è tu questa fatica… già che avevi infaticato pure in pausa, invece loro super figli… e poi io tifavo per loro due da morire… Eh certo, la fine di lei veramente… Eh ma non se l'aspettava nessuno dai… Ma perché ha litigato l'attrice maledetta… Poverina, c'ha avuto un sacco di problemi tra l'altro… Ah c'ha avuto dei problemi… Sì… credo… da quello che avevo letto… anoressia, polimia… Quindi era vero, non solo nella serie… L'ho fatta… poi l'ho addoppiata forse un anno fa… in un film giallo… ed era assolutamente irriconoscibile… quando mi hanno chiamato mi hanno detto… ah ma lei l'hai già addoppiata… Dico… ma chi è? C'è ma Misha Burton… Ah guardate… non è possibile… completamente diversa… ha preso tantissimo peso… Si è vero si vede che ha avuto dei problemi… Alimentari… Sì… Non l'ho guardata… cioè non l'ho rivista… Però completamente diversa da quella che ci ricordavamo noi… Ok… ok… Ah l'importante è che adesso… Sta bene… E spero che cominci… o ricominci… o riprenda a recitare… che è quello che… Sì sì… Che le piace fare… Che le piace fare… E poi… Mi piaceva molto… È brava… cioè io me la ricordo in Ossì perché lì l'ho vista… Ah anche tu l'hai vista… Sì… Non è che l'ho vista… Qualche puntatina mi è capitata… Se mi dici qual è la trama non la so… Però qualche puntata l'ho vista… La trama è… Ragazzi… Ragazzi… In trallazzi amorosi tra ragazzi… Soldi appalate… Vestiti firmati… E però il poveraccio entra… Ah beh certo… Il poveraccio… Giustamente il poveraccio… Il poveraccio che entra all'interno di questo mondo lussuoso… Esatto… In trallazzi di soldi… Esatto… Esatto… Però… Però… Per l'epoca era un po' rivoluzionario… Sì… Perché effettivamente… Perché adesso era un po' forse… Diciamo… Prima di Gossip Girl non c'era stato niente del genere… Cioè di… Dove… Si parlava così tanto di moda… Soldi… Della parire… Della parire classe sociale… Ecco… Poi con Gossip Girl… Adesso forse… Poi altre serie non… Non le conosco… Però… Credo che fosse una delle prime… Sicuramente una delle prime… Sì è vero… È vero… Sì… E quindi io per farmi perdonare a tutto il fandom di D.O.C. Perché l'altra volta mi avete massacrato… Questa volta ho detto ok… Facciamoli contenti… Prepariamo… Era lettura… Dai… L'ultima pagina… C'è proprio… Un dialogo adattato a monologo… Di Marissa Cooper… Ryan… Che hai trovato? Ah… C'è sti regali pronti… Bene… Io sono passata a reparto dolci… Amaretti… Liquirizzi… Vieni… Mettiamoci qui a reparto campeggio… Siamo nel cuore della foresta… Tutti soli… Con la nostra tenta… Vuoi cercare sette summer? L'idea è carina… Però vorranno stare da soli… Quel che succede nel centro commerciale… Resta nel centro commerciale… Scusa un secondo… Ciao… Ah sì è vero… Non sono più andata da mia madre… Perché hai incontrato summer… Sì sì… Resto qui a dormire da lei… Ok… Ci vediamo domani… Ok… Ciao… Era Alex… Chiamava così… No… Non è gelosa… Infatti non c'è motivo… Le sarebbe piaciuta questa… Nostra… Trasgressione… Sono stanca… Sono stanca… Vado in tenda… È omologata per quattro… Vieni dentro anche tu… Che ne pensi di sette summer… Sembrano finalmente felici… Tu dici che possiamo rilassarci… Fossi in te… Non sarei così ottimista… Se ripenso all'anno scorso… Quando è andata da lui per il ringraziamento… E si è trovata davanti Anna… Dire che era furiosa è poco… Però effettivamente noi non c'eravamo… Girovamo su una macchina rubata per le strade di Cino… Dovevi un favore a tuo fratello Trey… Stavi quasi per restarci però… Per restarci secco… Vabbè uguale… Per restarci però ci sta benissimo… Va bene… Va bene lo stesso… Va bene lo stesso… Ok… Va bene lo stesso… Vabbè… Sto superando me stessa… Sei rientrata proprio tanto nel personaggio… Ah sì… Rimasta dentro… Ah c'è una buona memoria… Si vede che è come andare in bicicletta… Una volta l'hai fatta… Poi ti rimane no… Speriamo dai… Speriamo… Non so in realtà io lascio abbastanza andare… Cioè non sono una… Non sei una che si porta ai personaggi con silenzio… No ma come li ricordo… In realtà… Cioè nel senso… Non c'è qualcuno che proprio invece ti è rimasto nel cuore tra tutte le… Nessuno… Matilda… Non lo so… Allora… Matilda mi è rimasto nel… Allora… Matilda mi è rimasto nel cuore il film… Ok… Ma perché era il mio primo film importante… E c'è anche là tutto un perché dietro… Lo devo dire adesso? Lo dico? Non lo dico? Dai… Io avevo praticamente smesso di lavorare… Di fare doppiaggio… Perché avevo avuto un incidente… Non ero stata bene… E quindi… Non mi devo commuovere… E quindi praticamente non lavoravo quasi più… Perché non era… Non mi sentivo più… E poi come succede purtroppo nel doppiaggio… Quando vai fuori per altri motivi… Anche di salute… E poi… È difficile rientrarci… Beh la gente si dimentica… Giustamente… Si va avanti… Il mondo va avanti… Quindi… Ne io ne i miei genitori siamo mai stati poi… Gente che chiamava… Che voleva… No… Quindi insomma… Era diciamo finita un… Un'era tra virgolette… E a un certo punto arriva questa chiamata di questo provino con Tonino a colla… A Tonino si possono dire tante cose… Ma insomma la sua genialità… Non si poteva mettere in discussione… Io avevo già lavorato altre volte con Tonino… E mia madre mi dice che vuoi fare… Vuoi andare… Ma io non lavoro più… Vabbè… Provino… Andiamo… E vado a fare questo provino… E… E… Faccio il provino… E poi… Vinco il provino… Ma in realtà io non vinco il provino… Nel senso che io poi vengo a sapere quando… Comincio a fare il film… Che il provino… Cioè che è stato mandato solo il mio provino… Ah… Cioè che Tonino… Aveva pensato a te… Che la potevo fare solo io e nessun'altra… E quindi a De Laurentiis… Quando De Laurentiis… Quando lui fece sentire il mio provino… Lui dice… Ah sì sì… Vabbè fammi sentire anche gli altri… Lui gli disse… No non ci sono altri provini… Perché la può fare solo lei… Lei e basta… Wow… E… Beh che bella… E quindi io… Sì lui era geniale… E quindi tra virgolette non so se questa può essere una coincidenza… Può essere un… Cioè non lo so… Non so neanche perché abbia pensato a me… Cioè io ci lavoravo ma erano passati… Comunque forse l'ultimo film che avevo fatto con lui era Mrs. Stoutfire… Molto carino ma forse erano passati 3-4 anni… Quindi non era… Non c'eravamo visti… Non era nell'immediato… Sì nell'immediato… Per cui… Lui era… Insomma… Non lo so perché lui abbia pensato a me… Però senza quel film probabilmente io oggi non sarei qui… Cioè… Quasi sicuramente… E poi è incredibile perché all'epoca… Quando tu facevi un film cinema… Al cinema andava tanta gente… Andavano tutti colleghi… È diverso… Insomma oggi c'è più roba poi in giro… E io mi ricordo che il film uscì ad aprile… E io diciamo a fine maggio non sapevo a chi dare i resti… Per il lavoro… Cioè era incredibile come la voce… Come la gente… I nostri colleghi… Cioè andavano ancora tanti al cinema… Sentivano… E poi la voce si spargeva ancora proprio… In un attimo… Però appunto… Se non ci fosse stato Leon… Io… Non avrei fatto… Chissà che cosa avrei fatto… Boh… Se non lo so… Vabbè… Comunque probabilmente sarei stata qui… C'è un qualcosa dietro… C'è… C'è una parte triste ovviamente… Però… C'è una rinascita… Esatto… Un ritorno… Come sei entrata… Una rinascita sembrava… Ed è incredibile perché io poi… Che se ne dica… Ma io devo tutto a Tonino… A Colla… Che poi… Voglio dire… Mi ha fatto scontare tutto eh… Sì… Cioè… Giuro… Con gli interessi proprio… E ne faceva passare una… Però… Però mi ha insegnato anche tantissimo… E comunque mi ha dato una seconda opportunità… Senza volerlo… Senza saperlo… Credo… Non lo so… Non glielo ho mai chiesto… Però ecco… Quindi… A quel film sono particolarmente legata… Per tutto quello che… Che ha rappresentato… Sì… Che ha rappresentato… Ehm… Però… No… Il personaggio di per sé però no… Allora guarda… Il personaggio… Ecco… Sì… Ti devo dire una cosa… Io sono eventualmente legata ai personaggi… Ma non agli attori… Ecco… Cioè a me non interessa… Quando mi dicono… Ah… Chi ti piace doppiare… A me non interessa niente… Del nome… Neanche se… Che sia un… Un attore famoso o meno… Cioè proprio… Zero… Mi piace la storia che hanno da raccontare… Cioè mi piace doppiare una storia… Mi piace recitare una parte… Ehm… La stessa… Diciamo Natalie Portman… Per esempio… Che già ho spoilerato… No… Se abbiamo scelto due cose completamente differenti… Posso spoilerare o non spoilerare… Cioè… Ok… Ho visto che c'è… Perché ho fatto la vaga… Ho detto… No, no… Io non mi devo preparare i testi… Poi ho fatto la vaga… Dico… Ma che mi hanno messo due… Ho visto che c'è un… Qualcosa di Thor… Esatto… Per esempio… A me non piace… Non piace quel genere di film… Non è il mio genere… Quindi non mi piacciono neanche quei personaggi… Per cui se tu mi dici… Ah… Ma sei contenta di aver doppiato di nuovo Natalie Portman… Ti dico… Mi sarebbe piaciuta… Mi sarebbe piaciuto doppiarla… Probabilmente in un altro film che non ho fatto io… In un altro contesto… In un altro contesto… Perché aveva un'altra storia da raccontare… Quel genere non mi piace… Quindi non… Non ero… Presa dalla trama… Dal film e dal personaggio… Eh… Ognuno ha i suoi gusti… Sì… Quindi ti dico… Cioè… Non mi interessano gli attori… Mi interessa quello che raccontano… Cioè… Mi interessa chi sono… Il personaggio… Sì… Quindi magari ecco… Hai personaggi… Per esempio… Matilda è un personaggio… Della Madonna… Tra l'altro di una caratura… Talmente… Importante… Poi ti dico… Io avevo 15 anni… Venivo da… Da questo periodo… In cui ero… Emotivamente… Proprio… Un fringuelletto… Quindi… È stata tosta… Però… Cioè… Quella è una roba… Che ti rimane… Sì… Quel personaggio… Sì… Vedi… Senza volerlo… Ho nominato comunque Matilda… Che è stato… Una parte fondamentale… Sì… Diciamo una rinascita… Per te… Nel mondo del… Cioè… Per me… Per quanto riguarda… La mia parte lavorativa… Anche quello in… Colonna… Cioè… Insieme a Leggio… Eh sì… Ero con Massimo Corpo… Sì… Sì… Poveraccio lui… Perché… Mi ha fatto nera Tonino… Poi con Tonino… Non c'erano orari… Chi lo conosce lo sa… No… Non c'erano i turni classici… Cioè… Il turno iniziava quando arrivava lui… E finiva quando lui era stanco… E quando arrivava voleva dire che magari… Il turno dell'uno e mezzo… Lui arrivava alle tre… Perché c'era un pranzo al ristorante… Ah… Ok… Quindi… Poi doveva digerire… E poi cominciava il secondo turno… Diciamo… Poi il terzo… E poi andavi a un certo punto avanti… Ce l'hanno detto che era un po' un ritardatario… No vabbè… Diciamo un po'… Era un genio… Cioè un genio… Cioè un genio… L'incarnazione… Assolutamente… Poi magari si metteva là un'ora e mezzo… E ti massacrava… E poi a un certo punto c'era una telefonata… E spariva però… Ti riposavi 45 minuti… Perché lui non si sa dove era andato… Però voglio dire… Però sono quei personaggi… Secondo me… Un po' si rimpiangono… E non ce ne sono più… Oggi non sarebbe neanche più possibile… Come ce ne sono adesso… Con le nuove regole… No… Non sarebbe più possibile… Perché non è… Guarda… Si è persa un pochettino… Quell'arte… Cioè quel… Quel modo di essere artista… Ok… Non ti dico… Siamo burocrati per carità… Però… Tutto più scandito… Sì… Cioè là veramente… C'erano proprio… Cioè si sentiva proprio… L'arte… Proprio la respiravi… Anche in questo… Che per carità… Cavolo di arte… Altista… Sì… Però… Mi ricordo… Io dovevo andare a scuola il giorno dopo… Magari erano le nove… Madre dalle sette e mezzo… Che mi aspettava in seconda fila… Perché… Capito… Non parcheggiava… Tanto adesso esce… Non c'erano i cellulari… Per cui non è che mi poteva chiamare… Whatsapp… Dove sei… Quando arrivi… E quindi chissà… Ti dava per dispersa… E sapeva che stavo là dentro… E che… Lei aspettava in seconda fila… Eh sì… Erano altri tempi… Però era bello quando la creatività, no? Non aveva… Non era ingabbiata all'interno di alcuni paletti… Rendeva un po' il sopravvento… Che possono essere il tempo… Tanti fattori… Assolutamente… Ed era creatività pura che poi ti portava… Guarda, io dico sempre che sono molto fortunata perché… Devo dire che ho lavorato con tutti… Quelli che per noi erano i grandi maestri… Cioè… Praticamente con tutti… Quindi… Un passaggio con tutti l'ho fatto… E quindi… Di ognuno… Ho preso qualcosa… E me lo sono messo in tasca… E lo porto con me… E sono stata fortunata… Eh… Ci credo… Fortunatissima… Perché adesso… Per carità… Ci sono bravissimi direttori… E lo voglio dire… Mi fa piacere dire questa cosa… Che adesso… Ci sono bravissimi direttori… Che forse… Noi… I nostri li chiamavamo maestri… Anche per la loro età… Oggi magari non sono… Maestri per l'età… Però lo sono comunque… Io sto… Io non dirigo… Però… Sto lavorando con tanti giovani… Doppiatori… Che hanno cominciato a dirigere… Hanno preso quella strada… Che sono veramente bravi… E lo voglio dire… Cioè… Non è per forza una questione di età… Cioè… Io ho tantissimi colleghi giovani… Più giovani di me… Che veramente… Chapeau… Cioè… Che sono veramente bravi direttori… E potranno fare una bellissima carriera… Sarà anche quella… Una sorta di vocazione… O talento… Da coltivare… Sicuramente… Sì… Secondo me… Alcuni nostri colleghi giovani… Hanno un grande talento… Nell'espressione… Quindi hanno una buonissima… Un'ottima dialettica… Ti fanno capire in pochissimo tempo… Quello che vogliono… E quello che cercano… Ehm… Sono molto empatici… Alcuni colleghi… Alcuni ragazzi… Sono molto empatici… Ehm… Ti mettono a tuo agio… Sono carini nei modi… Hanno… Un ottimo orecchio… Quello che c'è oggi… Che forse non c'era prima… Quasi tutti parlano bene le lingue… Sì… Almeno l'inglese… Per cui… È più facile… Se tu capisci bene la lingua… Riuscire poi… A cogliere anche le loro sfumature… Ok… In originale… Per cui… Forse c'è meno genialità… Cioè… Quello che dicevamo prima… Sì… Però c'è più attenzione… Dedizione… Più cultura… E questo comunque rende alcuni nostri colleghi giovani… Con cui io sto lavorando… Secondo me… Veramente… Veramente bravi… E lo voglio dire… Quindi sì… Forse non ci sono più quei grandi maestri… Tanti ci hanno lasciato… Purtroppo… C'è stata un'evoluzione che non è… Necessariamente negativa… No… Però stanno andando avanti dei ragazzi… Bravissimi… Meritevoli… Sì… Non voglio citarne… Potrei… Ma forse non è il caso di citarne alcuni… Piuttosto che altri… Certo… Però… Chi… Chi è della fascia giovane… Che sta cominciando a dirigere… Ha cominciato… E ha lavorato con me… Intendo loro… Ok… Sa che si stanno riferendo a loro… Sì… Sono alcuni molto bravi… Allora… Prima di giocare un po' insieme… Chiudiamo proprio il capitolo Leone… Tocca leggere? Sì… Dai ce le togliamo… Ce le togliamo… Ci hai parlato talmente bene di Matilda e di Leone… Che adesso non possiamo non leggerla… Va bene… Cioè… E io tra l'altro adesso non vi dirò nulla… Perché vi dovete godere il pezzo… E ricordarvi… Dove è preso… La scena è tutta… Facciamo questa cosa… Ci stai sfidando quindi… Sì… Perché Leone è un film bellissimo… Un film di culto… Sì… E quindi… Sono sicuro che in tanti l'avranno visto… E che come inizierà a parlare Valentina… Già capiranno… Dove siamo… Ok… Hai pulito qualcuno… Quanto costerebbe assumere qualcuno… Per fare fuori quelle carugne… Che hanno ucciso mio fratello… Cinquemila a testa… Allora facciamo così… Io lavoro per te… E in cambio… Tu mi insegni a pulire… Che dici… Io ti raccetto casa… Vado a fare la spesa… Ti faccio persino il bucato… Affare fatto… Vuoi dirmi di no? Che altro vuoi che faccia? Io non ho dove andare… Sei stato davvero buono con me Leone… E questa è una cosa che non capita spesso… Lo sai… Secondo te dovrei partire dopo colazione? Per dove? Tieni… Leggi questo biglietto… Che aspetti? Tu non sai leggere… C'è scritto… Ho deciso cosa voglio fare nella mia vita… Voglio fare le pulizie… Non mi importa se tu lavori da solo… Bonnie e Clyde non lavoravano da soli… Thelma e Louise non lavoravano da sole… E sono stati migliori… Tu mi hai salvato la vita… E adesso ne sei anche responsabile… Se mi hai salvato la vita… Devi avermela salvata per una buona ragione… Se mi butti fuori ora… È come se non avessi mai aperto quella porta… Come se mi avessi lasciato morire… Proprio lì davanti… E invece tu l'hai aperta… E allora… Se non mi aiuti stasera morirò… Lo sento… E io non voglio morire stasera… Wow… Questo è da brillo… Non la ricordo… Però… Bella… Poi sappiamo tutti le pulizie… A che si riferisce… Sì… Fare le pulizie… Bella… Speriamo che fosse un po' simile… Qua 30 anni in più… Eh… Vado sempre capito… Tra poco riprendiamo il ruolo bambina… E vediamo… A Eleonora De Angelis ad esempio… Gli abbiamo fatto recitare i maichi dei Goonies… Sì… Per vedere… Lì stiamo parlando… No… Mi dispiace questa… Non me lo ricordavo bene… Cioè… Questo all'inizio… In realtà mi ricordo… Sì… Però non esattamente… Come l'avevi fatta… Non l'interpretazione… Ma poi c'era Tonino che mi dirigeva… Vero… Anzi… Insomma adesso non c'è… Non c'era 5 minuti fa… Certo… Però è stato molto molto bello… Grazie… Invece adesso era una passeggiata… Sì… Adesso proprio… Ti mettiamo alla prova sui tuoi personaggi… Capirai… Quanto Valentina conosce dei personaggi che ha doppiato… Interpretato… Molto difficili questi… Ci saranno 4 frasi… E tu per ogni frase ti daremo 3 risposte possibili… Devi capire… Vabbè… Mi avete dato un aiutino… Esatto… Cioè per caso… O lavavo la spacca… Insomma… Le brutte… Come i quiz della patente… Ci provi… La cosa più difficile però sarà l'interpretazione di Spank… Certo… Perché lei fa schifo… Non fa schifo… Perché… Non posso dire… Ma non fa schifo… Va bene… Allora va bene… Non fa schifo… Non fa schifo… L'occhiolino… L'occhiolino… No no… Sono mie interpretazioni… Perché ovviamente non è che faccio l'intonazione come quella originale… Va bene… Adesso vedrete… Va bene… Frase numero uno… Non aveva la sua stessa struttura… A… Ray… Neongenesis Evangelion… B… Joy… Joy… Ah… Joy… Joy… C… L… La rivincita delle bionde… Cioè… Vado tipo… Come questo della patente… Ma struttura… L… Eh sì… L… Nell'ultima… Sì… Esatto… Esatto… E siamo ad uno… Abbiamo eguagliato il record negativo di Emanuela D'Amico… Che ha fatto uno su quattro… Quindi… Vabbè… Ma aspetta… Pagno peggio di così… Pagno peggio di così… Cioè… Il record negativo non c'era… Adesso mo… È difficilissimo… Ma io punto sempre a vincere… Cioè… Nel senso che mo… Arriviamo a quattro… È giusto… No… Però… Cioè… Se gioco… Io non gioco per partecipare… Bello… Mi piace… Wow… Cioè questo purtroppo… Purtroppo… Ho questo difetto… O preggio… Esatto… Non lo so… La competizione sana… Troppo rosico… L'importante è che non butti ballerine giù per le scale per fare due… Ok… Vai… La seconda è molto difficile secondo me… Epica come? A… Queen… B… Veronica… Veronica Mars… C… Imperatrice Savina… Dungeons & Dragons… Se non è anche da aver doppiato la… La… La dici? Queen… Sbagliato… Era Veronica in Veronica Mars… Tra grande serie… Però c'è da dire qua… Willow in Famer… Che epica come… Potrebbe averlo detto io… Poi era molto più… La sua struttura… Quella… 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 Quella era un po' più specifica… Ma che specifica… Però epica come… Era anche difficile perché ci ha messo Dungeons & Dragons… Seppicità… Con l'epicità… Capito… Ho fatto proprio l'imperatrice Savina… Ma non era lei… Non era lei… Però Queen… Qualcuno ha già fatto quattro… Aveva fatto quattro… Quindi ho già… Però può arrivare a tre… Posso arrivare a seconda… Almeno sul podio… Almeno sul podio… Dai… Ci proviamo… Tre… Certo… A parte il verde… È la pelata… A… Principessa Gommarosa… Adventure Time… B… Professoressa Tornhill… Mercoledì… C… Aether… American Pie… No… Questa è la… Bravissima… Questa è la… 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 L'ultima… Ho un superpotere… Ok… A… Principessa Unikitti… The Lego Movie… Ma te le puoi studiare prima le pronunce… Unik… Ma io le vedo qui con te… L'interpretazione come ha fatto… Mi potrebbe dire che… B… Zoi… Lo straordinario mondo di Zoi… C… L… Heroes… Allora… Questa… Non la so… Però… Cioè… Avrei detto A… Però… Che ho pensato che la B non è mai uscita… Quindi devo andare pure un po' di… Vedi come è molto… Non avrei mai fatto questo ragionamento… Tecnico-tattica… Bravo… Quindi… Quindi dico la B… Bravissima… E siamo altre… Hai superato il tuo collega Emiliano… Perché Emiliano si è fermato a due… E invece… L'importante è che sto sul podio… Ci stai… E che nessuno adesso… Le prossime agli altri devono essere ancora più difficili… A te è brava… Mi è piaciuto il ragionamento poi… Sì… Perché è una mente fatta per arrivare alla vittoria… Assolutamente… In questo contesto… E si vede… Molto bene… Molto bene… Ma… Ma… Adesso c'è un'altra cosa… Una cosa difficile… Si chiama bozio a canni… Qua non si vince niente… Però ci devi dire… Ci sono quattro situazioni… Ma perché prima che ho vinto… Eh… La nostra… La gloria… La gloria… Hai vinto un applauso… Ah ok… Fatto da tutti noi… Ok… Qua non c'è una risposta giusta o sbagliata… Ok… Per dirti… C'è solamente te… All'interno di quattro contesti… Ognuno con un potenziale pro e contro… E ci devi dire… All'interno di questo contesto… Se tu abbozzeresti… Quindi te lo faresti andare bene… Ah ok… Ma in generale Valentina… Sì… Per conoscerti meglio… Valentina… Proprio professionista… Ci saranno quattro contesti… Va bene… Ha capito… Quattro contesti… Mi piace dire contesto… Me lo fai dire? Contesto… Contesto… Ma solo sul professionale sta roba o nella vita anche privata? Allora… Vabbè… Prettamente professionale… Ok… Ok… La prima è… Un'importante attrice che ha sempre doppiato tu… Fa la protagonista in un film che si prevede essere campione di incassi… Il direttore di doppiaggio tuttavia assegna quel ruolo a una tua collega… Mentre a te ti distribuisce nella stessa pellicola però su un'attrice non protagonista… Già successo… Sì… 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 Assolutamente… Ok… Prima bozzo… Con i suoi colleghi invece stavano col coltello… No… Guarda… Ti dico una cosa… Cioè… Credo di avere un unico pregio… Ma no… Non sarà unico… Però uno che per me è molto importante… Non conosco l'invidia… Ah… Non sono invidosa per niente… Allora… Sicuro… Non ti dico che… Cioè… Vai là e sei contenta… Ehm… Però in quel momento tu arrivi… Sei un professionista… Fai quello che devi fare… Ehm… Voglio dire… È anche un lavoro… Molto soggettivo… Sì… Faccio moltissimo questo tuo stile di vita… Ma posso veramente… Ma insomma… Allora… Io ti dico che nei tuoi panni rosicherai come un riccio… Allora… Allora… Non ho rosicato… Allora… Non ho rosicato… Ti dico la verità… Non ho rosicato… Per il fatto che mi abbiano tolto l'attrice… Ehm… Perché quello succede continuamente… Anche se poi io non vado… In sala… Per fare magari 30 righe… Rispetto alla protagonista… Magari non lo so… È successo stamattina… Ehm… Mi ha dato fastidio… La non sensibilità… Del direttore… Ok… Non è chiaro… Cioè… Ho pensato… Che brutta persona che sei… Mh… Non potevi non saperlo… Perché quando tu… Distribuisci un'attrice così grande… Tu vai a leggere chi l'ha fatta… Lo sai… Ehm… Non so se fosse un contentino… Non ho bisogno di contentini… Se invece l'hai fatto proprio… Cioè… Sei stato comunque poco elegante… Poco sensibile… Poco… Ehm… Poco empatico… Ok… Ho capito… Va bene… Ho capito benissimo… Seconda… Il Ministero della Salute vuole coinvolgerti in una campagna di comunicazione per la prevenzione dei tumori… Ispirata alla potente Thor… Dato che la potente Thor… Ricordiamo che era malata… Però dovrai girare diversi spot interpretando il personaggio a 360 gradi comparendo in video con tanto di parrucca, costume e Mjolnir… Il martello… Cioè Mjolnir… Mjolnir è il martello… Perché non lo… Perché la causa è la causa… Però comunque ti devi esporre in una maniera… Quello è quello… Eh no… Quella è un po'… Che magari non fa parte di quello che è la tua persona… Sì… Ma no… Quello mi darebbe un po' fastidio… Potrebbe darti fastidio… Scusami ma c'è un l'autocompenso? Ebbè ovviamente un lavoro… Ebbè ovviamente un lavoro… Quindi c'è il… Eh… Però… Con l'armatura sono abbastanza… E' coperta… Sì… Sì… Con l'armatura… Il martello… Anche l'elmetto… Ah sì… Alla fine sì… Da nemmeno riconoscere anche nessuno… Ah è vero… All'elmetto… Ma allora sì… Perché no… C'è i capelli… Eh allora perché no… Perché magari non tutti hanno piacere… Perché volevi essere… L'ombra… Vabbè però c'avevo… Sì… Ah no… C'è l'elmetto… C'è tutto… C'è coperta… Fanno una cosa professionale… Ah no… Sì sì… Dai… Sì sì… Dai… Terza… Christopher Nolan ti vuole come attrice… Non protagonista nel suo prossimo film… Ma senza cachet… Non solo… Non è previsto neanche un minimo rimborso spese… È previsto alloggi e spostamenti… Quindi… Però… Sei nel film di Christopher Nolan… Cosa faresti? Dove lo giriamo? Eh… Sicuramente… Mettiamo Stati Uniti… Ah beh ci vado negli Stati Uniti… Faccio pure una vacanza… Ma ne ho vinto alloggio… Niente… Zero… E poi metti in casa e dura tipo quattro mesi… No vabbè… Che quattro mesi… È la protagonista allora… Scusa… No… Se devo fare due tre pose ci vado… Vado negli Amè… In America… Mi faccio un giro… So due tre giorni sul set… Però pensa che quando hanno girato… Adesso vi dico anche un'altra cosa… Sì… Ehm… Mi pare fosse… Non so se era Gossip Girl… Ok… L'hanno girato in un posto in cui… Cioè tutta la… La queue… Tutto il cast… Era in un albergo in cui… Mh… Adesso non voglio spoilerare il lavoro di mio marito… Ok… Però mio marito aveva a che fare con… Con questo albergo… Con questo albergo… A Roma… Molto importante… Ehm… E quindi… Praticamente… C'era… Anche… Perché forse era una delle scene finali… Ok… C'era anche… L'attrice di… Veronica Mars… Sì… Lei che dà la voce in realtà… Sì… Dalla voce… A Gossip Girl… Non è… La narratrice… Sì… Non è… Non è presente… Però era là… E quindi mio marito… A un certo punto… Parlando con loro… Spoiler a questa cosa… E loro erano entusiasti… Assolutamente entusiasti… Mi hanno invitato sul set il giorno dopo… Bello… Ma io non ci sono andata… Perché da sola… Mi sono vergognata troppo… Come no… Ma no… E lo sai qual era la mia… Qual è stata la mia più grande remora? Sì… Ehm… Di fare brutta figura… Perché magari… Comunque sì… Parlo l'inglese… Ma non perfettamente… E io… Avevo paura di… Magari non capire qualcosa… Di riuscire a farmi capire… Da sola… E non ci sono andata… No… Ti è preso un attimo d'ansietta… Eh sì… Non ci sono andata… Ma in realtà me ne fregavano… Cioè nel senso… Non era una cosa… Dico… Dio… Poi dopo sto là… Magari in inglese… Non capisco una cosa… Ma chi me lo fa fare… Hai pensato questo… Ma adesso col senno di poi… Avresti cambiato decisivo… No… Per niente… Allora tutto ok… No… Però siamo andati due anni… No… L'altro anno… L'anno e mezzo fa… Sul set di Beautiful… Che sono venuti a Roma anche loro a girare… Sì perché anche Beautiful… Con Emiliano tra l'altro… Col Torti che invece parla un inglese strepitoso… E ci siamo divertiti un sacco… Perché poi siamo rimasti sul set… E poi siamo stati a pranzo insieme… E poi l'attore che doppio Emiliano in Beautiful… Non… Non doveva girare… E quindi siamo rimasti noi… Con lui… A pranzo… E c'era Emiliano che comunque… Teneva banco perché il suo inglese è perfetto… Per cui quando dicevo… Come si dice sta cosa… Come si dice sta cosa… Vabbè con la spalla… Sì capito… Come si dice… E quindi là mi sono divertita un sacco proprio… E quella è stata una bella esperienza… Perché comunque… Però ecco… Perché… Però era diventato un clima amichevole… Cioè andare là da sola… A far vedere la doppiatrice… Che vuole far vedere… Che bravi che siete così… Non parlo… Tutta timida… Lì sarebbe stato diverso… Sì… Non mi andava… Però è stata… Comunque ti sei rifatta con Beautiful e con Emiliano… Sì… Con Emiliano… E poi… E poi guarda che l'attore suo… Non era per niente male… Non mi ricordo… Lui è un bel uomo… Ma anche Hope… Cioè… Sono tutti belli… E pensa che Hope è molto simile a me… Lei anche a pranzo era lontana da tutti… E quindi poi abbiamo chiesto come mai lei non fosse a pranzo con tutti noi… E l'attore di Emiliano… Che si chiama… No… Cliff… Cliff… Mi pare si chiama… Comunque lui ci ha detto che lei è molto molto timida… È molto riservata… E non ama anche lei essere in mezzo alla gente… Quindi sta sempre un pochettino in disparte… Quindi ti accomuna poi all'attrice… Che però quando poi ci siamo incontrate è stata carinissima… Educatissima… Dolcissima… Però anche lei è sempre un passo indietro… Cioè non è protagonista… Non è esuberante come carattere… Ok… Sì… Particolare come… A vederla non l'avrei mai detto… Anche per il ruolo che è in Beautiful… Insomma… E invece è fantastico… Vi voglio dire questa cosa… Poi non c'entra niente con me… Ma sponsorizzo Emiliano… Che praticamente… Ciao Emiliano… E praticamente noi eravamo già a tavola… Emiliano parlava anche con gli altri attori… E a un certo punto è venuto appunto l'attore che doppia lui… Che era in ritardo… E loro… È stato pazzesco… Perché Emiliano si è alzato… Cioè lui guardava la piazza… Eravamo a Piazza Navona… Quindi lui era seduto che guardava Piazza Navona… L'ha visto arrivare… Si è alzato… E loro in un attimo si sono riconosciuti… Cioè Emiliano l'ha riconosciuto… Ma anche lui non sapendo chi fosse il suo doppiatore… Cioè sapeva che ci sarebbero stati i doppiatori e le loro voci… Ma si sono riconosciuti… E si sono salutati come se fossero amici da sempre… E anche gli altri attori… Hanno detto che solo Emiliano poteva doppiarlo… Perché erano… Identici… Cioè hanno avuto subito una connessione… Pazzesca… E credo che si sentano ancora… Ah… Sì… Ma proprio… E guarda è stato incredibile… Questione di energie… Arrivava da lontano… Emiliano si è alzato… E lui pure l'ha vista… Gli ha detto sei tu… Si sono… Guarda è stato bellissimo… Una scena… Quasi da film… Sei figa per loro… E anche tutti gli altri attori hanno detto… Incredibile… Guarda… Ho detto comunque sono identici… Solo lui poteva essere la voce… Sì… Bello… Bello… C'era un'energia particolare tra di loro… Eh sì… Molto bello… Quasi magica… In un certo senso… Emiliano è magico… Emiliano è forte… Magico… Allora… Ultima… Ti offrono diverse lavorazioni… Ultima… Ne abbiamo fatte due… Ne abbiamo fatte tre… Tre… Ah sì… Le metto… Esatto… Ti offrono diverse lavorazioni importanti… Che ti lanciano verso una brillante carriera… Nella direzione di doppiaggio… Però a discapito dei ruoli di attrice e doppiatrice… Che diminuiranno… No… Fino ad azzerarsi… Non lo faresti mai… No… Comermi… Così tante responsabilità… Mi piace tantissimo… Mi piace tantissimo… La… La mia libertà… Di attrice… Cioè che vado… Faccio quello… Che devo fare… Guidata… Naturalmente… Mi piace essere guidata… Da… Una persona dietro… Che… 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 Sento come tale… Senti che… Però poi dopo… Insomma… Quando è finito vado a casa e… Risetto tutto e non… La cosa figa anche quando vado a cena con gli amici… Lo dico sempre… Che loro parlano di lavoro… Si portano il lavoro a casa… Che c'è ancora arriva quella telefonata… E quando stiamo in vacanza con gli amici… E la moglie dice… Ma no… Non risponde… No… Non risponde… Dai… L'ultima telefonata… Si puoi stare col telefono… Oppure dicono… Aspetta… Mio marito anche… Mi dice… Magari domenica sera… Ma che fai… Col computer… Dice… Vabbè… Perché… Sennò domani ho troppa roba da fare… Mi porta avanti… Invece… Cioè… Ho finito il turno… Finito… Cioè… Finito… E… E basta… E non… Non ho più pensieri… E questo… Molto bene… Secondo me… Nel nostro lavoro è… Non ha… Cioè… Non… Proprio è… Non è… Non è… Scambiabile con… Un super pro proprio… Sì… Cioè… Il fatto di staccare… Staccare completamente… E poi domani sei pronta per una nuova avventura… E quindi ti dico che… Ecco… A questa libertà… Ci tieni… Ci tengo… E… Cioè… Non apprezzo per me… Invece il direttore… Si porta… Si porta il lavoro… Si porta… Poi qualsiasi cosa succede… È responsabile… È responsabile… Lui… Ma poi deve avere a che fare anche con tante persone che gli dicono… Ti mettono dei paletti… Sì… Sì… Non c'è più quella libertà… Adesso è molto più… E poi sì… Le distribuzioni… Ti devi guardare tutto il film… Ti devi guardare la serie… Ti devi guardare i personaggi… Devi distribuire… Devi parlare col cliente… Devi contrattare su chi mette… Chi mette… E poi magari è scappata quella battuta… È detto quella pronuncia sbagliata… Però eh… Questo va rifatto… Allora riparla… Chiama l'ufficio… E quell'attore non si riesce a piazzare… Devi sostituirlo… Sennò domani puoi venire prima… Come facciamo… Poi togliere il tuo… È un sacco di rogne… La mia… Veramente… C'è… Ce l'hai descritto… E poi c'è tutto il lavoro in sala… E poi già si porta… E poi entra in sala… È vero… C'è un sacco di rogne… Anche io fossi nei tuoi panni… Preferirei recitare… Poi è normale… Andando avanti… I ruoli diminuiscono… Quindi tu prevedi un… Magari… No… Prevedi no… Non lo so… Ma non è che non… Non dico no a prescindere… Ecco sei aperta… Però ti dico… Se tu mi dici… Posso scegliere… Certo… Certo… Poi dopo… Poi vedremo quello che arriverà… Il futuro si vedrà… Sì… Non lo so… Mi lascio sorprendere… Chissà… Può arrivare di tutto… Con Nolan… Con Nolan… Certo… Torno più… Capito… Perché quello no… All'inizio faccio sì… Insomma gratis… Però poi mi apre le porte… Ma chi lo sa… Bella… Si sa… Quello che verrà… Mi piace questo… Il suo atteggiamento mentale… Ma… Abbiamo parlato di Glee… Abbiamo parlato di Glee… Ma è come di Glee… No… Che esatto… Glee non c'era… Di Veronica Marsi… Che abbiamo parlato… Abbiamo parlato di un sacco di cose… Però qui non c'è una lettura su Glee… Spanky… Ah… Peccato… Spanky sta svalvolando… Peccato… No… A parte la bellezza del prodotto di Glee… Perché comunque è stata una serie importante… In quanto andava a… Mettere le problematiche di ragazzi giovani… Sì… Affrontando tematiche molto importanti… Sì… Mettendoli in musica… Con i pezzi… Sì… Non solo pop del momento… Ma anche quelli passati… Quindi secondo me è stata una serie… Bellissima… Che piace la musica? Allora… La musica mi fa compagnia… Però non è fondamentale nella mia vita… Dico la verità… Cioè mi fa compagnia in macchina… In alcuni momenti… Non sono amante di un genere in particolare… Non compri musica… No… Non la compro… E non è fondamentale nella mia vita… Ok… No… Sono sincera… Non è un qualcosa che metto a casa… Continuamente… A volte dico… Ma scusa… C'ho Alexa… Basterebbe dire Alexa… Metti… Alexa… E però mi dimentico… È perché non ne senti la necessità… No… In macchina… In macchina… In macchina sì… È la prima cosa… Se no… Non per forza… Ok… E poi mi lascio sorprendere molto anche dalla musica dei miei figli… Ho due figli adolescenti… Sentono della musica… Sentono della musica… Tutta loro… Poi… Adesso… Un po' quello… Poi mio figlio… Adesso ha molto la musica napoletana… Poi mio figlio vive a Salerno per questioni calcistiche… E quindi… Mette roba… Neomelodica… Napoletana… Che… Io dico… Ma scusa… Ma com'è possibile che tu… Senza… 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 Ma come fai se non conosci Beatles? Ho capito, ma se io faccio sentire Beatles a miei figli? Oggi non possono capire quel contesto. Sono un po' d'accordo. E quindi siamo noi che dobbiamo sentire la musica napoletana. Tempi cambiano. Ma io sono d'accordo fino a un certo punto. Nel senso che deve essere uno scambio equo. Cioè io, è giusto che sia al passo coi tempi, però è anche giusto che tu capisca quello che hanno rappresentato alcune cose. Beatles, Elvis, Michael Jackson. Però per esempio mio figlio ha 17 anni e salutiamo. Intanto non ci vede perché non gli dico che. Ci vedrà perché vedrai. No ma dove vai? Dico no basta lasciatemi stare. Mi arriverà degli estratti. Mi prendono in giro, mi prendono in giro. Mi ha figliato ho detto ma con questi capelli vai. Sei perfetta. Ma come che ti metti così? Comunque, che stavo dicendo? Ah, che comunque loro ho visto, per esempio lui che è più grande, che l'altra volta è in macchina mettendo la sua playlist, a certo punto ha messo Alba Chiara e l'ha cantata e mi ha detto tu questa roba non la conosci. Cosa scusa? Quindi loro stanno, loro stanno, in realtà lui sta riscoprendo delle cose pensando che siano però attuali. Ma io ho detto ma, dico scusa, ma che, ma davvero? Ma lui credo che non sapesse che è un pezzo veramente scioccato quindi. Eh sì, perché Alba Chiara che sarà anni 80. Eh sì, anni 80. 45 c'è, ma ti rendi conto quanti anni fa? Sono 40 anni, 45. Eppure vedo che sta ricominciando ad ascoltare, adesso Alba Chiara mi è venuta in mente però pure un pezzo di venditti ma uno dei primi pezzi che infatti, però lui pensava fossero attuali. Qualcuno si vede che gliel'ha fatti sentire, forse qualche amico. Erroneamente. E quindi lui pensando che li sentiva qualcuno a 17-18 anni, fossero attuali. E gli sono piaciuti però, sapendo questa cosa, eh, sono piaciuti. Avendoli invece presentati come una roba di tot anni fa, che lo sa? No, magari avrebbe detto, no, ma che mi fa sentire, ummi, eh. Sì, sì, certo. Così. Fa tutto quello che proponete il genitore. Eh sì, è sempre... È giusto così. È giusto così. Grazie per questa parentesi sulla musica, anche un pochino su Glipp. Possiamo passare a gossip. È un altro personaggio super infame, Queen, però sì, passiamo a gossip girl. Dai, adesso abbiamo... C'è pure un aneddoto, lo volete sapere, l'aneddoto su Gli? Sì. Il poveraccio, io, mentre facevo Gli, ero incinta di mia figlia, della mia seconda figlia, e era iniziata la serie e ho partorito da lì a pochissimo. Mi pare io avessi fatto il primo episodio, avessi doppiato e poi ho partorito. E quindi c'eravamo anche fermati. E poi di corsa, dopo il parto, dovevo recuperare e fare il secondo, perché mi sembra fossero i primi tre episodi. Io ne avevo fatto uno e quindi devo fare il secondo e il terzo episodio. Dico, come si fa? Io ho appena partorito, forse da dieci giorni, due settimane. Comunque dico, vabbè, ma porto la bambina al lavoro. Tanto è una mummia, no? I bambini ha una settimana, dieci giorni, piccole mummie. Cioè, metti là, dai il lattuccio e dormono. E invece mia figlia ha pianto tutto il turno, vi giuro su Dio. Una cosa allucinante, tre ore, non ha fatto altro che piangere, non c'era modo di calmarla. Ma come mai? Ma non lo so, non c'era modo di calmarla. E Francesco Pezzulli, che all'epoca non aveva figli, che salutiamo anche Francesco che era il direttore. Sì, assolutamente, ciao Francesco. Mi ha detto, la prendo io. E quindi, però, aveva paura, perché poi lui, insomma, un uomo abbastanza giovane, non aveva figli, questa bambina era piccolissima. E quindi lui provava a prenderla, a cullarla, ma a piangere. Quindi lui ogni tanto cercava di darmi delle indicazioni, con lei sotto, e che urlava come una pazza, quindi neanche si capivano. Poi lui non poteva stare in sala regia, perché si sentiva, lei piangeva così forte, che rientrava. Quindi praticamente abbiamo fatto il turno che l'assistente e Francesco si intercambiavano. Quindi un po' c'avevamo l'assistente, un po' c'avevamo il direttore. Perché mia figlia non si... Appena sembrava che, a un certo punto io riuscivo, la provavo a far addormentare, le ridavo il latte, lei si calmava, appena la mettevamo giù, ma guarda, sembrava fatta apposta, indemoniata. Cioè, come appena la mettevamo giù, io entravo in sala, chiudevo la porta, un incubo. Io mi ricordo Francesco, poveraccio, che era disperato, perché era forse la sua prima direzione. Non mi vorrei sbagliare. Ah, bellissimo ricordo. Era il primo episodio, per cui doveva anche, appunto, hai delle responsabilità, non da poco, quindi doveva venire in un certo modo. E lui non riusciva a seguire. Con questa bambina che anche se ti sedevi la lasciavi dietro in sala, ma piangeva che non si sentiva niente di quello che faceva. Anche poi il tuo stato d'animo nel sentire la bimba che piangeva. Sì, ma guarda, a me faceva più pena, era più scioccato, era più ansioso Francesco. No, ma non per la, perché lui provava a tenerla, ma piangeva, quindi anche lui non sapeva, non sapeva come gestire la situazione. La bambina è disperata, volellina. Però ha assistito alla storia di lì, la bimba. Già rompeva le palle. Magari, se uno fa attenzione, può sentire un leggero... Chissà. Chissà. E quindi adesso passiamo al Gossip Girl. Ne abbiamo un po' parlato prima, riguardo, insomma, l'occasione persa, ma senza rimorsi e rimpianti di conoscere il cast, tra cui anche Kristen Bell. E adesso noi ritorniamo lì, no? Con la mente, perché c'è una lettura, tratta proprio, mi sembra, dal primo episodio della prima stagione, dove in un mash-up sentiamo proprio la voce fuoricampo che va a raccontare un po' di cosette, finendo poi con quello che è l'iconico... Comunque, per esempio, su Gossip Girl io rosicavo, perché ancora facevamo i turni corali, tutti insieme, non colonne separate, e io ero l'unica, eravamo poi una serie di tutti i ragazzi, quindi tutti della nostra età, è l'unica da sola. Quindi, guarda, quella era una cosa che io dicevo, mannaggia, che cavolo, loro si divertivano un sacco, magari io finivo il turno, arrivavano tutti loro, tutti insieme, che calzeggiavano, ridevano, scherzavano, invece io andavo. Ti sentivi un po' estromessa dalla cosa? Eh, mi dispiace, no, perché a me è sempre piaciuto stare... La coralità. Sì, sì. Vabbè, quello che manca a tutti i colleghi, era proprio un'altra roba. Ci divertivamo proprio, cioè ci divertivamo sia recitando che proprio tra di noi. Che poi immagino che i rapporti che si creavano all'interno per lavoro o poi in alcuni casi uscivano anche fuori. Guarda, io non ho tanti amici del... Vabbè, ma io sono un po' particolare, sono un po' riservata, non amo molto... Cioè, mi piace avere delle cose separate, sono molto gelosa della mia vita privata, delle mie cose, quindi non amo, diciamo, far vedere troppo di me. Però, però, sento alcuni colleghi, anche se non li frequento, molto vicini. Sì, nel cuore. Cioè, io so che ci sono. Cioè, anche se non ci frequentiamo, con le famiglie abbiamo... Però... Sai che puoi contare subito. Sì, e poi quando ci vediamo c'è un affetto... Ma no, ma proprio un affetto, una complicità, un'intimità che magari non ho con tanti amici fuori. Noi diciamo sempre che se a volte ci vedessero i nostri compagni in alcuni atteggiamenti, ma che sono assolutamente puri, ok? Ma sono intimi, molto intimi. C'è una complicità che se mio marito mi vedesse così complice, ecco, magari con un altro collega, non capirebbe. Ma sono... È un'intimità, è una complicità pura. Però noi recitiamo insieme. Noi recitavamo insieme. Recitavamo anche delle cose... Abbiamo... Cioè, anche poi, quando lavori, quando reciti, ti metti a nudo, comunque sia, tiri fuori delle emozioni, dei sentimenti, delle cose anche tue private. E' uno scambio anche. Sì, cioè, ci siamo visti e ci siamo vissuti in momenti comunque di grande intimità. E quindi è normale che si crea poi... Quei rapporto. Quei rapporti. Purtroppo non... Non so... Esatto. Non so... Poi si sono divertiti gli altri. Vado? Vai! Sì, adesso sentiamo proprio Gossip Girl che ci fa. Speriamo! Buongiorno, Upperside, sono Gossip Girl e devo darvi una notizia sensazionale. Una delle mie numerosi fonti, Melanie 91, ci ha informato, avvistata alla Grand Central, valigia in mano, Serena Van Der Guzzi. Un anno fa la nostra divina non era scomparsa misteriosamente per virgolette andare in collegio? E ora all'improvviso è riapparsa. Non mi credete? Guardate coi vostri occhi. Fortunatamente Melanie 91 ce ne ha mandato la prova. Grazie per la foto, Mel. Avvistato anche il giovane solitario. Non riesce a credere che l'amore della sua vita sia tornato. Peccato che lei non sappia chi sia. Invece tutti sanno chi è Serena e la notizia corre veloce. Indovinate che cosa ne pensa Blair Waldorf. Erano molto amiche, ma noi abbiamo sempre pensato che Nate, il suo ragazzo, avesse una cotta per Serena. Meglio per lei appartarsi con Nate. Il tempo passa. Si dice in giro che S lasciò la festa di B in meno di 90 secondi e che non beve neanche un limoncello. La nostra bad girl si è davvero ravveduta o fa semplicemente parte della commedia? Perché se n'era andata? Perché è tornata? Mandatemi tutti i dettagli. Chi sono io? Questo è l'unico segreto che non svelerò mai. L'unico. Siete pazzi di me, vero? Kiss Kiss Gossip Girl. Wow! Per da spanchi come era promentata da te. Mi sono passata anch'io qua. Anche io. Sì, era fighissima. Anche poi queste storie di intrallazzi piacciono un sacco quello che sta con quell'altra. Però, bello. Sì, e poi è l'identica. Ah sì? È l'identica. Pure qua sono passati 15, 20, quant'è? Non lo so. Però sembra che il tempo non sia assolutamente passato. Cioè, che è bloccato nel tempo lì in quel punto fisso. Solo la voce, però. No, no, no. È buonissima. Cioè, guarda, spanchi e ne dimostra 75. Mamma mia. È vero, guarda. Mamma mia. Per con lei. Mamma mia Ciccatschi. Con lei sì. Ma cosa? Ma cosa? Mamma mia, guarda. Vado in retro, non li mettiamo in mezzo queste illazioni. Sì, sono perso. Lei mi ha definito come le patatine fritte una volta. Che fai male, unte. No, è vero che non se ne può fare a meno perché una tira l'altra. Sì, vabbè. Io però non ho mai fatto questi apprezzamenti, anzi ho detto per favore spanchi se poco potessero. Eh, però chi disprezza compra. E non dico altro. Io disprezzo e basta in questo caso. Non mi sembri così caffino. Ma lascialo perdere. Giochi, fai finta? No, faccio finta. È un prof frustratino, dai, diciamo. Non è vero. Non mi mettete in mezzo, eh. Bucciarda. Che tra i due litiganti la terza gode. Allora, tutte le cose belle che abbiamo alla fine. Abbiamo un'ultima lettura. In questo caso sappiamo che ci hai detto prima che i prodotti a tema supereroistico non ti piacciono. Anche se, però ti ci distribuiscono perché mi ricordo anche Katie Lotz, no? Che era Black Canary in Arrow. Sì. Quindi l'hai ripresa anche come White Canary. Quindi ti ritornano sempre comunque. Ma non troppo. Ah, perché? Troppo le cose. No, non vedrete. Duraturi però perché comunque sì, quello è stato molto durato. Molto duraturo. Sì. Però si fa. Si fa. Bravissima. Però vabbè se poi dovessi scegliere non sceglierei altro. Però in questo caso devo ammettere che il prodotto non ci è piaciuto troppo anche a noi il Love and Thunder perché comunque hanno reso il drammatico un po' troppo macchietta e qui invece abbiamo reso il drammatico drammatico. Ah. Preso un pezzo di Love and Thunder abbiamo fatto un piccolo mash up. Quindi è drammatica questa? Un pochino più drammatico perché comunque parla della sua malattia sta morendo. Di come ha cercato un po' di... Ok. Intanto mi hai dato una bella un bel aiutino, eh. Sì. Una drammatica. Che ho detto a che punto siamo. Allora l'abbiamo reso un po' più drammatico. Ok. Esatto, quindi nel momento in cui lei parla a Thor di quella che è la sua malattia e di come invece ha cercato di... Ok. Un'altra strada per... Arginare la morte. Quindi siamo pronti. Thor, so che hai sofferto. Ma è meglio chiudere il tuo cuore piuttosto che provare dolore. tu hai meditato e hai capito che vuoi stare con me. ho un cancro. Sono malata. Che cosa ho detto? Non... No, non dicevo sul serio. Stavo scherzando. Io... No, non devi dispiacerti. L'ho scoperto tipo sei mesi fa. Mi sentivo stanca e poi mi hanno detto che sono allo stadio 4 di sistemare le mie cose. Certo, stadio 4. Ma sentiamo su quanti stadi? Quattro, sì. Ma solo per quanto ne sappiamo. Poi ho sentito Mjolnir che mi chiamava e così ho pensato che visto che la scienza non funziona forse è la magia dei vichinghi dello spazio, sì. È per questo che sono venuta a New Asgard. Pensavo che il martello potesse guarirmi e credo che vada meglio o forse no. No, no, ma... sta andando benissimo. Oltre a darsi non l'ho detto a nessun altro. Quando le persone lo scoprono fanno cose strane diventano diverse cosa che non mi serve al momento. Comunque non è poi così grave. Questo male lo combatterò a modo mio, ok? voglio restituire quei bambini alle loro famiglie. Voglio terminare la missione. Mi sento spaventata. Tu come ti senti? Di merda? Quanto di merda. Così sto film sarebbe stato molto più bello in questo da vedere, no? Eh, lo sappiamo che purtroppo ma non solo questo hanno reso comico qualcosa che poi dal fumetto invece era molto tragico. E hanno un po' ridicolizzato. Io personalmente sì, un tempo indietro l'ho lessi. Come il cane! L'ho lessi. Mamma mia, vedi con chi la vuole? No, perché poi qua dovresti arrivare subito la battuta pronta. Ma che battuta pronta? Questa è una cosa talmente triste che c'è solo il silenzio guarda io mi allontano da voi. Silenzio questa che parte. Chi è che fa partire pure lui le musichette? Siamo che partissero da sole perché proprio fossero così azzeccate. Ormai si autopartono. Sì, c'è il tasto spanchi che è questo. Questo è proprio il suo infatti ogni tanto parte in automatico. Che bello comunque cioè brutto però bello la tua interpretazione drammatica è stata molto toccante. Molto toccante. Adesso l'ultimissima cosa poi ti lasciamo andare. Ce l'ho fatta? Ce l'hai fatta, sei stata bravissima, è stata una puntata meravigliosa e quindi bello. Però non abbiamo questo libro. A Roma si dice così, vabbè questo è capace. A Roma si dice così. Sono capace. Ti chiediamo di scegliere una sola cosa tra un termine che sono all'inizio o un'espressione romana che alla fine ce la sigli così sarà per sempre tua e ce la reciti per chiudere. Ma tutto il pezzo devo recitare? Ma tantissimo. Ma no, ci sono anche cose piccoline. Fai facciamo una cosa, apro a caso. A caso? Quella che capita capita. Certo, intanto se si scelgo non è che scelgo bene. Che ne so, magari c'è una cosa che sei affezionata tipo così spesso all'interno della tua vita. Non lo so. Fammi vedere se ci stanno quelle... L'espressione alla fine e i termini singoli all'inizio. Quindi innanzitutto... Fammi un esempio di espressione. C'è la scella pezzata. Ok, fammi un esempio di termine. Ma io ne uso tanti. Sto cazzo. Pure. Sti cazzi. Capito? Ma ho visto pure una cosa che l'altra volta ho detto a mio figlio non mi prendere per il culo. Però non gli ho detto non mi piappi il culo. Cioè sono stata un po' più signorile. Perché questo è romano. No, perché devo dare il buon esempio. A Roma si dice. Vabbè pure. Tra siglo devo prima leggere la sora Camilla. Sì dai, c'è la legge e poi c'è la sigla. Ok, la sora Camilla. Ma chi sei la sora Camilla? Tutti la vanno nessuno se la pia. Con la rima baciata a Roma ci sanno fa un po' tutti. Io poi leggo pure un po' Romano. Ma chi se ne importa. Un modo di dire molto diffuso utilizzato per indicare una persona ben voluta da tutti ma che alla fine resta sempre da sola. come la sora Camilla. L'origine di questa espressione si basa su un fatto storico. Tale donna Camilla sorella di Felice Perretti ovvero Papa Sisto Quinto da giovane ebbe numerosi pretendenti ma alla fine entrò in convento e si fece suora. Quante volte avete commentato le disavventure di una vostra amica appellandola sora Camilla? Oggi le ragazze sanno come sdrammatizzare e sono loro stesse a ridere quando l'ennesima tresca non va a buon fine. Ah oh, me paro la sora Camilla. Ma non solo in amore. Molto spesso si fa erogna anche in altri contesti in particolare in quello lavorativo soprattutto per chi riceve diverse proposte di lavoro ma non viene mai assunto. Meno male che i romani sanno ridere anche di queste situazioni. la sora Camilla la sora Camilla mi piace. La sora Camilla bello cavolo. Ma vorrei leggerne altre. Vedi perché poi uno tira l'altro. Perché pure mi sono fatta un culo così lo dico spesso. Lo dici? Sì. Allora a sto punto dai facciamogliene siglare due dopo. E dai. O se no scegliamo questa. No tutte e due mi piacciono. Tutte e due. Allora al termine di una lunga giornata di lavoro alla fine di un progetto dopo un'interminabile attesa causata dallo spettro della burocrazia quando il risultato è raggiunto quando la vittoria è cosa fatta quando il successo si fa racconto è in questo momento che la frase me so fatto un culo così è scelta dal romano per descrivere le peripezie passate per ottenere quello che voleva. Non sempre tutto fila per il meglio ci vuole abnegazione impegno dedizione e anche un po' di fortuna per raggiungere l'obiettivo un po' di culo cioè uno si fa il culo però poi ci vuole pure pulo Certo se lo fa ma deve anche rientrare sto culo Eh sì Allora ci vuole abnegazione impegno dedizione e anche un po' di fortuna per raggiungere l'obiettivo il senso letterale della frase è meglio non tradurlo fa riferimento alla sofferenza provata con alcune pratiche sessuali ma quello figurato rispecchia in pieno l'orgoglio che il romano prova nel raccontare agli amici di avercela fatta nonostante tutto e nonostante tutti è quasi un inno alla speranza all'ottimismo un po' di sofferenza nella vita ci sta sempre ma se i risultati sono questi ne vale la pena una piccola appendice a volte si usa anche per indicare le dimensioni raggiunte dal posteriore durante la dura prova ecco che il culo così diventa quindi un culo come una capanna meglio non aggiungere altro il culo come una capanna bello beh abbiamo finito in grandissimo stile ma dato che si parla di libri l'ultima domanda ti piace? l'ultima domanda ti pongo è questa qualora dovessero scrivere o dovessi scrivere un libro su di te un'autobiografia sei pazzo? vabbè perché no eh come la intitoleresti? bruciapero me valentina me va bene ci sta bello me virgola valentina punto bello mi piace vai profondo ma allo stesso tempo mi incurierò però lo sai che non sarai in grado beh te lo fai scrivere no non sarai in grado però anche se te lo fai scrivere no non sarai in grado di di raccontarmi da sola preferiresti essere raccontata con gli occhi degli altri assolutamente sarei anche curiosa assolutamente cioè che senso ha raccontarmi da sola mamma mia ma è vero è molto meglio di una biografia anche perché poi cioè per quanto possiamo essere sinceri ma non saremo mai obiettivi davvero su noi stessi cioè la nostra percezione di noi stessi non è completamente obiettiva e poi che ci importa di come ci vediamo noi cioè è vero che uno si deve piacere a se stesso e tutte queste cose però poi in realtà tu non stai su un'isola deserta è vero cioè alla fine tu sei in una società e ti piace stare con gli altri e ti piace stare bene e essere importante agli occhi di qualcun altro tutti noi abbiamo bisogno di essere importanti per qualcuno e quindi e quindi ti faresti descrivere più dagli altri assolutamente ma io non mi descriverei mai ma non saprei proprio come descrivere ma non saprei da dove iniziare ne so ma come tu hai già scoperto chi sei? beh io preferirei descrivermi da solo eh certo tu mi sa che sei super egocentrico brava da cosa l'hai capito? dal ciuffo biondo appena entrato io non sono egocentrico io sono realista che diverso sì ecco qua no non è vero però no non è egocentrico è superante sì abbastanza però mi piace cioè nel senso io penso che gli altri abbiano una visione parziale di quello che siamo perché ovviamente facciamo vedere quello che vogliamo far vedere in base alla persona assolutamente e questa è un po' una scelta anche paracula infatti uno dovrebbe farsi descrivere da più persone è normale anche in amicizia no? tu c'è l'amico che è il confidente l'amico con cui ti diverti l'amico con cui tazzeggi l'amico cioè io non ho sì poi ci sono alcune amiche che devo dire con cui riesco a fare molte più cose però c'è l'amica con cui vado a fare shopping che preferisco con cui andare a fare shopping piuttosto che quella con cui poi dopo ho un paio di amiche che sono diciamo quasi a 360 gradi tutto fare però è vero che ci sono diverse situazioni però alcuni lati di te nessuno li avrà mai visti e forse nessuno li vedrà mai capito? per quello dico una visione comunque sia parziale è vero però io non sarei in grado di descrivermi non ti ho convinto no no tu mi hai convinto ma io non sarei in grado di descrivermi comunque interessantissima anche l'idea del libro cioè tu prendi magari selezioni 15 persone 15 capitoli ognuno che parla 12 come gli apostoli comunque è una bella chiave di lettura dai sarebbe sicuramente interessante io lo compro se lo fai no no io te lo scrivo io ve lo firmo il vostro sì sì ce lo firmi però questo è bello mi sa che me lo compro dai no no è figo a noi ci ha colpito subito abbiamo detto no dobbiamo coinvolgerlo all'interno delle nostre trasmissioni andiamo sempre in chiusura con questo così che chi conosce il romano ha un qualcosa capisce le origini e chi non lo conosce comunque non si ama Roma quindi impara un po' poi diciamo che il doppiaggio è Roma quasi oddio non dovrei dirlo eh però la piazza più grande sicuramente però diciamo che che è una piazza importante Roma che è il centro del doppiaggio si può dire? il centro nevratico l'ombelico l'ombelico del doppiaggio l'ombelico del mondo esatto però dobbiamo andare in chiusura ovviamente andiamo a ringraziare tutti voi che ci seguite grazie mille fate tutte le cose che ho detto all'inizio non vi ripeto se no spanchi mi uccide grazie anche a spanchi ma il grazie più grande va a Valentina grazie a voi fantastico grazie a voi da me un puntatone che ha ancora più valenza questo pure lo dice a tutti no non è vero non è vero non fa partire l'applauso però quello parte coltore no però un puntatone che ha ancora più valenza per quello che ci ha detto all'inizio quindi il fatto che si è vero si è vero diciamo a fare queste iniziative che comunque ci ha dato fiducia per noi vuol dire tanto dato un onore veramente nonostante mi ha detto ed è giusto che voi lo sappiate che ho i capelli che sembrano la patch cutanea di Francesco Facchinetti non dovevi dire di chi perché no? no hai fatto bene di chi anche perché fa pubblicità Francesco Facchinetti fa pubblicità io ti seguo quindi non so se vuoi ricambia anche il follo si ma lui credo che sia contento è molto fiero è molto fiero e lo fa sentire bene anche perché poi voglio dire se sembra questo i tuoi sono veri vuol dire che sono fatti benissimo il patch cutaneo è fatto benissimo i miei sono verissimi però no sto scherzando ovviamente mi fa molto piacere averte avuto dopo metto una mano si sono veri però quando siamo credo il segreto e lo dico a tutti e qui a chiudo è la lozione all'acqua marina che ti fa i capelli più spumosi è vero acqua marina guarda i ripetendo sono fighissimi io sono solo quella non uso mai il gel perché mi dà fastidio sentirmi appiccicciccosa invece questa lozione il gel era anche molto anni 80 90 adesso è la brillantina e la lacca vi ricordate? la lacca ancora? un pochino perché devo tenere di qua vabbè io sono antica quindi sono fuori moda non sono sei più contemporanea di noi anzi è vero quello l'acqua di mare l'acqua di mare guarda usatela perché è la svolta della vostra vita vabbè io vi guardo passo da l'uno all'altro dico oddio dove sono finita dove sono finita non ci verrà mai più dai grazie buon pomeriggio buona mattinata buonanotte dipenderà da quando vedrete questo video e ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao a tutti grazie grazie a voi ciao a tutti ciao a tutti